Salve, salve da Marco Calabro per conto di CieloCosto.it, ci troviamo oggi nell'isola di Cuba, a Santiago di Cuba e quello che stiamo vedendo è l'hotel Santiago, è un albergo che ha degli standard qualitativi di tipo occidentale l'albergo ha anche un piccolo centro commerciale, è l'unico posto a Santiago di Cuba dove si può mangiare la pizza di tipo italiano l'albergo è fra Lagarzon e Plazza della Rivoluzione, quindi non stiamo parlando del centro storico della città ma stiamo parlando di una zona nuova. Grazie per ascoltare i video di CieloCosto.it e arrivederci al prossimo video